La vita è fatta così, non ti preoccupare, il Napoli ha giocato bene, però purtroppo il pallone è rotondo, non ha voluto entrare in nessuna maniera, però purtroppo non molliamo, la fascia ce l'abbiamo sempre in testa, lo scudetto sta sempre qua, nel nostro cuore, non ti preoccupare, tranquillo, il pallone è fatto così, chi si perde e chi vince, ma non ti preoccupare, non molliamo mai, non ti preoccupare. Innanzitutto niente drammi, perché ci può stare, una giornata storta ci può stare, allora è andato tutto bene, poi secondo me se entra, nonostante il Napoli non abbia giocato una bella partita, ma se entra quel colpo di testa di Osimena che ha preso il palo, la partita cambia completamente, io non farei nessun dramma e penso che il Napoli non ne perderà manco più una. La partita è stata interpretata bene dal Napoli, solamente che Sarri l'ha impostata tatticamente molto difensiva, sfortunatamente abbiamo subito un gol che diciamo che se lo ripeterà altre cento volte non gli riuscirà di nuovo quel gol, però dobbiamo pensare solamente avanti, avevamo 18 punti, ora ne saranno 15 sempre se le altre vinceranno, però ce la possiamo fare. I ragazzi si sono impegnati, ma quando purtroppo non c'è in una partita la condizione e la freschezza atletica e mentale diventa difficile segnare contro squadre come la Lazio che ieri si sono chiuse e hanno trovato un gol in modo anche fortuito in un unico tiro a porta che hanno fatto. Può capitare, mica è una macchina perfetta in Napoli, ci può stare, ma non è successo niente per noi, siamo fiduciosi, deve cadere il mondo per non vincere lo scudetto in Napoli quest'anno. Quante volte nella vita si perde e poi uno si rialza un'altra volta, la vita non deve mai mollare, in Napoli non molla mai, non ti preoccupare, a peso, sta scritto anche nella vita quotidiana, si perde e si vince, quando uno perde poi si rialza, si rimbocca le maniche e va avanti, va avanti, guarda avanti, non guardare indietro adesso.